E mentre Sipri annuncia in città un'altra manifestazione per l'esattezza on city nel 5 marzo per la pace davanti alla salita Matteotti voluta dalla CGL raccogliendo numerose adesioni, diverse realtà del mondo delle associazioni non solo organizzano iniziative di solidarietà, come nel caso della cooperativa Etnos, che ha avviato una raccolta fondi in favore della Croce Rossa di Caltanissetta, pensando soprattutto ai bambini dell'Ucraina e ai rifugiati. Le donazioni serviranno infatti a fornire aiuti come coperte, acqua potabile, kit per l'igiene personale, ma anche cure mediche e persino supporto psicologico, così come spiegano anche attraverso i social. Anche la Caritas Diocesana, alignandosi con un'altra raccolta fondi avviata dalla Caritas italiana, contribuisce alla causa a livello locale, invitando a donare, così come avviene anche per il Lions Club Caltanissetta dei Castelli. Anche il mondo della cultura e della musica sta rispondendo con concerti solidali. Caltanissetta infatti ospiterà l'iniziativa di Lello Nalfino dal titolo Sicilia per la pace, coinvolgendo anche altri artisti. Tra le ulteriori iniziative in città c'è il farmaco sospeso del Conadi con l'impegno della sezione provinciale, che punta alla raccolta di farmaci da banco e materiale sanitario di primo soccorso, grazie al supporto di Federfarma provinciale e alla collaborazione delle farmacie aderenti al progetto.